amici ciao amiche ben ritrovati in un nuovo vlog allora non sapevamo non sapevamo dove andare non sapevamo dove andare amici e amici e però una meta ce l'abbiamo ma ce la siamo ricordati adesso era una meta ce l'abbiamo in mente ci è venuto in mente però adesso gli siamo arrivati appunto da action siamo venuti da action perché alla fine io voglio vedere qualcosa guarda sempre mia moglie da action stavolta voglio guardare io preparatevi perché su qua siete sintonizzati presto vi porteremo all'idroscalo e a luna park ma non devi fare spoiler perché vabbè comunque entriamo da action che poi alla fine action comunque ragazzi fa caldo entriamo allora ragazzi guardate cosa abbiamo trovato un frigo da viaggio elettrico e poi comunque una che è caricato rimane comunque ci sono anche i panetti apposta perché fa vedere guarda guarda il disegno amore la assia ragione tra elettrico già rinfresca forse per mantenere dopo ragazzi oggi pieno e action si è strapieno guarda però un prezzo ragazzi carino rosa però è classico non mi interessa allora è 29 95 poi vediamo di qua carino il panda bello sto mappamondo non vedo non sento non parlo è originale guardate che belli questi mappamondi davvero una bella mappamondi davvero un bel tavolo con vetro di cristallo metterlo su siccoso questo è un bel tavolo anche questo colore no questo è più fashion ma questi da ufficio secondo me e poi qua guardate gli elefanti guardate gli elefanti solo 1.79 è pochissimo ma vabbè guardate qua gli uccellini qui cui 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 secondo me è più bello oro secondo me nessuno dei due no aspetta quelle sono le scimmiette ma le scimmiette sono tanto carine perché il leone non ce lo vedo ma va le scimmiette è proprio il classico no le scimmiette voglio guardate ragazzi per la spiaggia cioè ragazzi questo secondo me per la spiaggia è ottimo per quando si vuole fare una giornata si infatti ti fai tutta una giornata secondo me è bellissimo ci sono le corde che si c'è giallo c'è nero giallo è estivo e rosso è rosso e il colore che è qua anche azzurro però guardate che bello questo azzurro o giallo no non lo so comunque allora quanto costa amore 1,25 1,80 e 1,83 non c'è prezzo però ma no no da prendere ma perché da prendere indovina il prezzo no io qui su qua la porto al mare indovinate il prezzo scritto qua sotto poi ve lo diciamo ragazzi la canoa è un kayak ah un kayak si perché la canoa è diversa questo qua è bellissimo tutto per i fiumi allora gli altri allora 200 cos'è 2,25 si cavolo che bella però ma questa come la compi ah forse anche la pompa ma annessa dentro bello c'è anche la pompa forse quanto costa quanto costa allora quanto costa eh canoa 69,95 non è tanto eh per una canoa quello è anche vero eh perché se si va la decathlon eh però è bella eh l'è bella chissà chi è eh ragazzi cosa ho trovato 69,95 bobby board gonfiabile con borsa che poi è un canotto a me sembra no aspetta no perché tipo è piatto ah non si capisce sai no è piatto no non mi piace più ma io lo compri su Amazon se tu vuoi un canotto lo faccio anche su Amazon non mi piace più è piatto tipo una tavola no 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 non mi piace ragazzi ce la siamo accaparrata dai e anche questo fa vedere e anche queste qua che sono belle le tre scimmiette non vedono se non parla abbiamo presa azzurra e costa di tu quanto costa? no ma adesso le decimie eh questa qua costa 9 aspetta questa è davanti per comporre questa alla fine 9,95 ragazzi c'è affarone affarone che per questa va bene anche eh non sono in estate anche in primavera anche adesso va bene anche magari che non sono nei parchi però la spiaggia è ideale proprio sì questa sì ottimo affare quelle da Sardegna che sono senza ombrelloni così no ma anche quella che di Moneglia è libera eh guardate con 9,95 possiamo anche evitare l'ombrellone di portarlo addietro però possiamo prendere anche l'ombrellone che ce l'abbiamo già e quello è una cosa in più per tenere più il fresco che ne so magari la polsa al frigo le cose beh dai andare sotto insomma è bello poi vedremo quando la monteremo vedremo quest'estate ragazzi work in progress outfit of the day allora camicia New York Yankees originalissima come della Nike della Nike dietro è semplice guardate semplicemente Nike New York Yankees jeans Primark Highmark belli con le nuove taglielle scarpe nuove DN guardate la particolarità belle queste qua hanno nella scatola i lacci rosa secondo me dovresti mettere i lacci rosa e anche un altro poio di lacci spatti che bellissimo amore Apple Watch ok as peri rifallo adoro adoro bellissimo comunque siamo da perché l'altra volta siamo venuti quando siamo andati all in on shop quando siamo andati a prendere la canna da pesca l'ultima volta qua stava chiudendo non abbiamo visto niente ah perché tu la volevi prendere mi ricordo si che qua c'erano poi vabbè adesso ci guardiamo qualcosa vediamo ecco ragazzi qua ero venuto perché da action costavano di più per la cava pescando a fondo volevo prenderne una tipo questa qua che andavo anche a risparmiare però comunque poi sono andato dal mio amico Gianni e niente questa roba qua non la prendo perché comunque vado da Gianni che ha la qualità eh però ragazzi dato che mi piace la pesca sono amante queste qua sono sempre per dire questa qua va bene anche per pescare alla cava striscio un semplice cucchiaino che vi faccio vedere se c'è è il cucchiaino sto parlando per la musica no qua non c'è il cucchiaino però ce l'ho volendo la canna c'è la canna da pesca ce l'ho per pescare a fondo a striscio scusate con il cucchiaino quindi non c'è bisogno di prenderla però volendo se mi gira anche per il mare vabbè per il mare se mi gira la prendo perché comunque mi piace la pesca quindi mi piace poi adesso andrò da Gianni a prenderne un'altra canna per pescare alla bolognese quindi questa è no anche perché non hanno tutto non sono completi qua poi Gianni professionista vado da lui che c'ha di tutto e di più c'è da perdersi il mio mondo dei balocchi comunque niente dai bello 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 allora ragazzi sono deciso se prendere questo qua per l'auto da appoggiare il telefono perché ho già visto su amazon il monitor e tutto che non serve installarlo andare dall'elettroauto questo qua con la cover ci sta nel frattempo che aspetto perché ne ho uno che avevo preso la spezia ma questo qua secondo me è molto è molto meglio secondo me perché quello che ho preso la spezia ragazzi ecco è tipo questo qua no è questo ragazzi è uguale io ho comprato il bel adesivo però non ecco tanto spazio con questo perché spazio ne ho poco c'è la musica questo qua non mi piace anche perché dove si attacca questo non lo so questo qua non mi piace cioè questo è il più carino mi sa che lo compro ragazzi eh alla fine mi serve solo per usare il navigatore sarebbe questa perché è l'unica carina che però io non uso le cover ma in questo caso mi serve per questo la cover 2,50 adesso vediamo perché boh non sono proprio convinto convinto adesso vediamo un attimino ma non è per i prezzi perché boh ho questa non sono proprio convinto del tutto adesso vediamo qua le cover sono di tutti i modelli ma delle 12 pro max cioè nera rossa tiffany blu cioè ho preso questa qua a caso si ho fatto acquisti adesso ve li faccio vedere in macchina allora ragazzi siamo appena usciti da questo negozio di cinesi abbiamo fatto un po' di danni vabbè un po' di danni allora mia moglie ha preso questo il label magic bubble gum bubble gum che è il perfume che deve essere buonissimo perché questo non profuma più infatti questo prodotto poi mi sono comprato è bello anche la crolata poi ho preso due pacchi di questi della tenderly tenderly che c'è papperino papperina topolino e poi c'è anche qualcun altro e poi addirittura natalizia ah sono anche pippo mini natalizi sono 15 pacchetti poi abbiamo preso una pinza per due confezioni poi ho preso questa per registrare braccialetto per registrare il mio braccialetto quello con i quadrifogli perché infatti se notate non ce l'ho più su però c'è questo qua sì questo di Svarovski c'è su poi ha preso e quindi poi questa resta mio marito e poi mi sono presa questi perché questo è carinissimo per gli occhiali da sole è rosa per lato tipo è bello è rosa per lato posso usarlo anche per gli occhiali quando vuole film sembra la catenella del ciuccio no è bello vedete 2,90 ma sì dai basta ho preso questa roba poi ho preso alla fine mi sono deciso ho preso questo se rimane rimane sono da buttare ragazzi ma io ho il mio adesivo a casa e ho dovuto comprare la cover perché se no però questa è carina è estiva dai sì ho dovuto prendere questa perché io poi la cover non la uso però facciamo sta prova dai proviamo subito lo metti e col mio cellulare puoi riprendere e vedi se rimane esatto vediamo se facciamo l'esperimento ragazzi ultima tappa Tigros appunto perché mancano gli attimel e la carta della ciapette esatto perché la carta della ciapette è essenziale 1 euro al chilo sì ma li trovo ancora belli no 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 chiesa in minga allora amici siamo tornati a casa chiudo io perché mio amico sta cucinando quindi chiudo io il vlog allora come avrete visto vi abbiamo fatto vedere quella specie di di tenda per il mare ecco abbiamo fatto acquisti per il mare oltre a quello abbiamo preso anche altre cose poi e sono contentissima perché si avvicina sempre di più la vacanza cioè io non vedo l'ora sono già in mood partenza comunque il cosino per la macchina l'aggeggino alla fine non l'abbiamo ripreso però ragazzi perfetto funziona è una meraviglia si è attaccato benissimo la calamita è super potente e quindi mio marito forse è in pace con queste robe qui del cellulare perché ne ha tipo 8000 ragazzi veramente comunque vabbè niente io vi saluto vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima ciao